Loaded Lions, che cosa sono, su che cosa si basa questo progetto e soprattutto quanto valgono ad oggi. Ciao da CryptoNFT Italia, io sono Luke, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Oggi andiamo ad esaminare questo progetto di NFT che si chiama appunto Loaded Lions, è un progetto lanciato l'anno scorso da Crypto.com, adesso lo andiamo a vedere nello specifico, e soprattutto andiamo a vedere su che cosa si basa questo progetto fino ad arrivare agli sviluppi dei giorni d'oggi. Prima di questo ti invito come sempre a iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perderti nessun altro contenuto relativo al mondo Crypto ed NFT, ma soprattutto segui con attenzione fino alla fine di questo video, perché appunto ti andrò a svelare quelli che sono i prossimi sviluppi di questo progetto. Ti ricordo inoltre, mi raccomando, noi non siamo dei consulenti finanziari, ma quello che noi andiamo a raccontare ovviamente è frutto di anni e anni di esperienza in questo settore. Allora, partiamo dal presupposto che questo progetto chiamato Loaded Lions è a tutti gli effetti un progetto basato su gli NFT. Gli NFT appunto, come sappiamo, sono dei Not Fungible Token ed è fondamentalmente un progetto che si basa su delle foto profilo, ok? Era stato realizzato e lanciato lo scorso anno, nello specifico il 23 novembre 2021, da Crypto.com, quindi è un progetto che si basa sulla blockchain Kronos, quindi sempre sul progetto Kronos, però su un'altra sezione, non ovviamente all'interno della sezione dove ovviamente acquisti di solito le criptovalute. Ed è un progetto che appunto è nato il 23 novembre 2021, dove si è fatto questo lancio, dove appunto ogni leone che si andava ad acquistare valeva 200 dollari, quindi partecipando appunto al lancio del 23 di novembre 2021, se volevi acquistare questi leoni, chiamiamoli così, che erano appunto tutti gli effetti di NFT, fondamentalmente pagavi 200 dollari. Ed è stato un investimento riuscito per molti di quelli che appunto sono riusciti ad acquistarli, perché innanzitutto, quando appunto era stato fatto il lancio, se non ricordo male, se ne potevano acquistare massimo 5. Quindi già c'era un limite, perché ovviamente c'era l'intenzione da parte di Kronos di voler farlo acquistare bene o male a più persone possibili. E c'è stato soprattutto un'ottima lente di ingrandimento fin da subito su questo progetto, perché molti di coloro che erano riusciti ad acquistare 200 dollari, poi sono riusciti per esempio a rivenderli anche fino a un milione di dollari. È un progetto, come dicevo prima, basato sulle foto profilo, quindi sono dei personaggi di profilo, adesso li andiamo a vedere, e ovviamente sono limitati, perché ovviamente se no il loro valore non sarebbe così crescente. E possono arrivare fino a un massimo di 10.000 Loaded Lions, quindi il tetto massimo sono questi qui in circolazione. Come funziona un po' nello specifico? Allora, come abbiamo detto, adesso non vi sto a leggere qui, perché appunto ve l'ho appena detto a voce, Come appunto abbiamo visto, ogni leone, chiamiamolo leone, ha una rarità diversa sulla base di che cosa? Delle loro ovviamente caratteristiche. Come puoi vedere in questa schermata ci sono per esempio 20 leoni che hanno 20 occhi diversi, all'interno di questi 10.000 che ho citato, 9 di questi hanno degli orecchini, 19 hanno un aspetto diverso, 26 cambia la testa, eccetera, eccetera. Quindi ognuno di questi leoni, diciamo, ha una rarità più o meno elevata oppure non elevata. Dove è possibile andarli a acquistare questi leoni? Adesso ve lo facciamo vedere, come leggiamo qui che sono stati appunto inseriti nella rete Kronos, io ve lo faccio vedere al volo. Basta andare su www.crypto.com.nft Quindi basterà andare all'interno, scrivi nella buca di ricerca che vedi per esempio qui in alto l'Oded Lions e comparirai all'interno della schermata relativa appunto a questi NFT. Come puoi vedere sono quasi tutti al pieno, quasi 10.000, quasi si può dire sì 10.000 articoli già appunto di proprietà, spalmati su 4.324 proprietari e come puoi vedere, adesso lo vediamo nello specifico, il prezzo base parte da un'asta di 50 dollari, quindi è possibile acquistare questi Lions a partire da 50 dollari come aste, quindi facendo un'offerta, oppure acquistando in maniera secca fino da appunto 1.500 dollari, ok? Ad oggi il volume di scambio di questi NFT è di 50 milioni, quindi capite bene non è poca roba e qui avete un po' una panoramica di quello che ci siamo detti fino adesso. Qui avete la possibilità di, come dicevo prima, di impostare una serie di filtri. Allora qui avete ovviamente leoni che sono già di proprietà e ovviamente potete impostare una serie di filtri o se avete il numero del leone a disposizione a portata di mano lo potete inserire qui o fate voi una ricerca e vi va a cercare direttamente il leone in questione o più semplicemente dico no, voglio partecipare per esempio a delle aste, seleziono da solo la sezione asta, qui posso addirittura ordinarlo per prezzo crescente e come potete vedere in questo momento c'è questo qui che per esempio parte da 50 dollari, ok? Quindi posso fare un'offerta, adesso non ci clicco e posso tranquillamente depositare. Poi il proprietario di questo NFT sarà lui a scegliere se appunto accettare o meno la mia offerta. Come potete vedere ci sono altri parametri, per esempio posso impostare, sto cercando per esempio un Lion specifico, posso per esempio filtrarlo per occhi, non so, pirata, ok? E qui ovviamente c'è solo questo qua. Adesso giusto per farvi avere un'idea, no? Adesso tolgo tutti i flag che ho inserito. Come vi rendete conto della rarità di una carta? Per farvi capire anche fino a che prezzo è possibile arrivare. A parte che potete inserire qui un range di prezzo, in base ovviamente al vostro budget, e qui ovviamente ve lo va a filtrare, ma molto semplicemente io se vado su orecchini, per esempio, vado a prendere quello che ha un orecchino rosso, scusate, lo flaggo, e ovviamente mi dice che ce n'è solo uno. Essendo ce n'è solo uno, come potete vedere, questo vale 25 milioni. Ebbene sì, 25 milioni. Se ovviamente volete vedere la caratteristica, le specifiche di ogni, di ciascuno di questo Lion, basta cliccare all'interno della figura, vi fa accedere direttamente a tutte le varie caratteristiche, che avete una cronologia, dove appunto vi dà chi è l'attuale proprietario, è questo qui che si fa chiamare, è droppato, eccetera, eccetera, che l'ha acquistato sei mesi fa. Qui potete vedere eventuali offerte che sono state fatte, in questo caso negli ultimi sei mesi non sono state fatte offerte, perché penso che le persone sono spaventate ad aver visto il prezzo fissato dal proprietario di 25 milioni. E poi qui avete una serie di caratteristiche relative al personaggio, quindi vi dice, non so, ha una grossa faccia, l'orecchino rosso, il corpo bianco e così via, ok? Ora vi dico dove è arrivato questo progetto da qualche mese a questa parte. Da qualche mese a questa parte questo progetto si è evoluto tramite il Main City. Che cos'è il Main City? Il Main City è fondamentalmente delle city, quindi delle città create sempre tramite NFT, e adesso lo vediamo, dove all'interno di queste città potranno circolare questi lion, un po' stile, non so se ve lo ricordate, The Sims. Ecco, più o meno lo stile è quello. Quindi questi leoni potranno anche, tra l'altro, comprare proprietà all'interno di queste città e ovviamente queste costruzioni che verranno appunto costruite potranno poi essere rivendute per farci del profitto. Ci sono altri progetti in realtà simili a questo, però appunto così in maniera molto minuziosa, molto articolata, a mio avviso, questo è uno dei pochi progetti che ce l'ha. Quindi ve lo leggo. Che cosa sono, che cos'è Main City? Fondamentalmente è un simulatore di magnati con i felini, quindi in questo caso i leoni. In questo caso è tradotto in lingua italiana, quindi non fateci caso se magari la traduzione è poco comprensibile. E vi faccio subito vedere come è possibile comprare queste land all'interno di Main City, che è questo, diciamo, sistema creato. Ci sono anche qui cinque rarità di terre, in maniera che partono appunto dal... Adesso io ve lo traduco in lingua inglese, perché in italiano non si può proprio sentire. Starter, RAR, Epic, Legendary, Mythical, Ok, Mythical ovviamente è quello che costerà di più. Sono a disposizione massimo 25.000 NFT di queste terre, ok? E ovviamente c'è già stato un lancio anche qui. Il 13 dicembre del 2022 è stato fatto il lancio solo per coloro che detenevano i leoni, già. Quindi ovviamente hanno favorito coloro che già erano dentro a questo progetto. E il 15 dicembre invece c'è stata una vendita pubblica a tutti. È strutturato in tre pack, quindi puoi acquistare o il proprietor, che appunto ti costa, se sei possessore di Lion, 59 dollari, e ti dà diritto ad una land, quindi ad una terra su cui puoi costruire, oppure al pubblico che non è in possesso di un leone, 79 dollari. Poi c'è l'executive, 149 se sei possessore di Lion, oppure 219, e infine Ticon, che se sei possessore di Lion, 199 oppure 319. Vi faccio vedere anche queste terre, dove è possibile comprarle. C'è sempre all'interno della sezione crypto.com.nft, basta scrivere appunto land, eccetera, e lo trovate. Poi magari vi lascio qui sotto in descrizione il sito. La struttura è ovviamente sempre la stessa, e potete fare la stessa identica e medesima cosa di quello che abbiamo visto fare poco fa all'interno appunto del progetto Loaded Lions. Quindi anche qui potete impostare l'asta, vedere quali terre attualmente ci sono in vendita, potete fare un'offerta, potete acquistarlo direttamente, eccetera, eccetera. Signori, speriamo che questo tutorial vi sia stato utile. Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete delle domande, delle lucidazioni in merito a questo tutorial. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video per altre novità su Tutmondo Cripto. Ciao e a presto da Luke.